Salve a tutti abitanti del mio mondo e benvenuti in un nuovissimo video. Se non siete nati o cresciuti sotto un ponte, saprete senza ombre di dubbio che è S Magazine, famosissima rivista digitale errata nel lontano 2016 da Antonio Di Cade Di Stefano, che è riuscita sempre a regalarci dei bei momenti, grazie alle migliaia e migliaia di interviste fatte ai cantautori del momento. In effetti, adesso che ci penso, hanno sempre cercato di prendere in considerazione il loro momento di hype, per poi ovviamente andare a tramutarli in una conversazione anche abbastanza complessa. Tutto questo accompagnato ovviamente dal fondatore in questione, che farà le opposite domande per tutta la durata delle puntate. Perciò non poteva di certo mancare per questo gennaio l'intervista a uno dei personaggi che si è fatto sentire letteralmente in tutti i sensi nelle varie puntate di questo magazine, ovvero Federico Lucia in arte Pedez, che pensate ancora prima che fosse data la possibilità a S Magazine di aprire bocca, annunciando chi avrebbero intervistato soprattutto, soprattutto ricordatevelo, quando sarebbe uscita questa intervista. Si è andato a creare uno degli scalpori, letteralmente parlando, sto facendo l'esagerato, della storia della musica italiana. Bravo Andrea, neanche a concludere le frasi, complimenti. Cosa tra l'altro tutto sommato plausibile, perché gran parte della fanbase di Fede è stata presente dietro le quinte dell'intervista. Perciò loro, a differenza di noi su YouTube, hanno potuto vedere l'intervista completa, senza editing, e ovviamente, ma questa cosa qua è una cosa che farei tranquillamente anch'io, hanno ripreso col cellulare non tutta l'intervista, ma alcuni momenti salienti, che potete tranquillamente trovare su YouTube, su Instagram, praticamente su qualsiasi social. Nonostante questa intervista sia durata quasi due ore su YouTube, caricata il 24 o il 25 gennaio, però comunque intorno a questi giorni, mi è bastato però già da quei 30 minuti di anteprima che è stata appunto girata dai fan, di quanto si hanno caduto in basso con questa intervista. È la prima volta che, tra l'altro, dopo anni che continuano a citare Fedez, lo intervistano, e hanno fatto una figura di merda. Però cerchiamo di passare per i gradi. Sono state fatte tantissime domande, alcune assai scomode, che letteralmente di risposte non esistono né in cielo né in terra, andando a marcare parecchie inesattezze su quello che è Fedez, su che cosa fa Fedez principalmente. Adesso, ragazzi, non vorrei dare una risposta vera a questa domanda che è stata fatta, ovvero, ma Fedez, effettivamente, quando lo si nomina, si pensa al rap? Però, ragazzi, lui non ha fatto solamente rap, cioè vi state contraddicendo da soli. E questo, aneddoto, anche un po' per rispondere alla domanda che a volte mi fanno, ma, senti, ma per quale motivo sul tuo canale, siccome il tuo canale si chiama World of Music, tu recensisci principalmente il rap? Adesso, nel 2021 slash 2022, non mi vado tanto a focussare sulla differenza tra un genere e l'altro. Con le continue uscite di vari artisti, con tutti i background che hanno, anche musicalmente parlando, non mi sentirei più di classificarlo questo genere qua, ovvero il rap, riprendendo anche ciò che si dice sempre come genere unico. Lo possiamo mischiare al pop, lo possiamo mischiare all'elettronica, addirittura al punk, se vogliamo. Anche Fedez stesso lo fece col penultimo album. Tra l'altro, posso di certo dire io se Fedez è un rapper oppure no. No, lo so per lui, la musica la fa lui, e di certo non sono io quello che dovrebbe dire cosa dovrebbe fare lui. Mi è caduto anche un po' in basso di Kel su questa cosa qua, perché, da come io vi avevo detto prima, lui ha un background da scrittore e da rapper e slash produttore. Dovrebbe un pochettino mettersi nei panni di persone, per esempio Fedez, ma non soltanto lui. Del perché un giorno lui si sveglia e rilascia una canzone così, dopo l'altro giorno ne rilascia una che è totalmente diversa. Anzi, addirittura è molto più difficile andare a rilasciare o comunque scrivere, produrre canzoni che si assomigliano, piuttosto che fare canzoni totalmente diverse tra di loro. Ragazzi, io vi giuro assolutamente così, provateci. Su Twitter, su Instagram, su Facebook, su YouTube, ovviamente anche nell'intervista completa, vedevo persone, le tranne tre davano 99% di ragione a Fedez e 1%, ma probabilmente anche di meno. Ragazzi, vi posso dire che sono neutro a questa cosa, non sono dalla parte di nessuno, dato che non vi è sorto un piccolo dettaglio. Ovvero che anche Fedez, in alcune risposte, non è stato molto maturo, non è stato molto profondo al riguardo. Potevano esserci delle domande, tra l'altro, molto interessanti. Un esempio di domande interessanti è appunto la più famosa all'interno. Ragazzi, vi prego, andate a vedere i meme su queste cose qua, sulle domande fatte su Instagram, sono fantastici. Ma tu, guardando e sentendo un tuo pezzo, o una tua qualsiasi foto di dieci anni fa, che cosa pensi? Guardando e sentendo me dieci anni fa, penso a me dieci anni fa. C'è stato un silenzio che va dai dieci ai venti secondi, che letteralmente è stato imbarazzante quando l'ho visto la prima volta. Ovviamente non solo queste, vi sto soltanto narrando quello che mi ricordo, le uniche cose che mi sono appuntato sono quelle più importanti. Per quanto riguarda gli spezzoni, se volete ve le ricarico, subito dopo questo video, ovviamente non subito dopo, il tempo ovviamente di montarlo e caricarlo, i momenti salienti, non dell'intervista, ma di me che reatto appunto all'intervista. Tutto questo preambolo per dire che hanno fatto entrambi la loro parte. Sempre sì, lo ammetto, lo ammetto, attenzione, influenzati dal fatto che tantissimi mesi prima di questa intervista Fedez ha rilasciato una traccia con Da Supreme, che tra l'altro vi lascio anche in descrizione la mia recensione del pezzo slash first review e se vogliamo anche del pezzo in sé. Il brano si intitola No Game Freestyle e Fedez nella sua strofa dice specifiche parole di Kelly che chiede di Fedez a ogni secondo. Allora, questo lo posso mettere in mezzo perché nell'intervista stessa è stato citato appunto il dissing, quindi immaginate un po' l'imbarazzo, la tensione nel parlarne di questo davanti a Di Kelle. Il caro Fedez ritiene appunto uno strazio che ad ogni intervista che si fa a The Rapper lui deve essere sempre messo in mezzo per quanto riguarda il discorso di prodotti commerciali. E voi invece cosa ne pensate? Scrivetelo sotto nei commenti, lasciate un bel like, se volete passate anche dai miei social secondari, anche dai miei canali YouTube secondari e noi ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.